ben trovati sul canale la vita in campagna è due mesi che non vengiorno di quello che combino un saluto a tutti soprattutto a chi mi scrive che fino hai fatta do stai c'è manchi manca i video vi ringrazio e poi comunque ringrazio a tutti che abbiamo superato 4.000 iscritti cominciamo a essere tanti dei pazzi scatenati e quindi siccome siamo tanti ho detto che bisogna rifare qualche video di aggiornamento l'aggiornamento è che adesso io qui sto qui che si sente l'odore della camomilla e quindi sto proprio in relax perché diciamo batte il sole sulla camomilla e si emana questo odore di camomilla rilassante e quindi che vi racconto ho finito il capanno tutto riciclato che forse avete visto qualche piccolo video short e del tutto il materiale del riciclo pezzi del bancale pezzi della mia casetta quelli avanzati lamiere poca roba acquistata un po dei miti un po' di rondelle e avevo fatto questo capanno tutto carino per le galline con anche lo scompartimento per fare le uova e invece dopo sono arrivate quelle che sta qui nella selva che sono le oghe e niente loro sono entrate e ha fatto occupazione e non ci vuole nessuno non ci vuole per le galline poi si pizzicano perché non sono nate insieme quindi si pizzicano e quindi che succede che adesso ci sta loro però loro non vangono le uova perché sono piccole le oghe e poi gli scompartimenti sono più rialzati sono fatti studiati per le galline non non per le oghe forse le oghe sta pure strette saldà forse riesce a saldà però forse non è in grange poi sono nati i pulgini e poi che vi racconto a vi faccio vedere un po di immagini dell'orto adesso io continuo a parlare però intanto vedete le immagini dell'orto vedete qui che ho fatto tutto l'orto tutto carino molto grande stanno stanno l'ho rifatto alla grande e e poi niente poi qua invece ho lasciato tutto abbandonato perché era dove avevo fatto l'orto l'anno scorso un pezzo di orto e quindi a mo c'è venuta una selva non ho tagliato non ho fatto niente perché ci sta le oghe che loro converte l'erba e fa le loro cose e quindi pulisce e fertilizza il terreno quindi ci stanno le oghe adesso e poi niente che vi racconto mi racconto che è un film è un film è un po abbandonato youtube però mo riprendiamo mo c'è questo bellissimo sole poi finalmente il cielo è azzurro perché per un po dei giorni non si sa che cielo che era grigio c'è tutte strisce tutte cose strane e quindi oggi è ritornato ad essere azzurro tira un po ad arietta e quindi mi ho acceso la videocamera e quindi niente quindi sempre le stesse storie voi che mi raccontate che state a fare l'orto l'ete fatto? l'ete fatto parecchio bello? grande? che mi dite? raccontatemelo scrivetelo sotto sui commenti che poi li leggo e mi dite com'è e niente adesso vi saluto forse è arrivato un amico e quindi vi saluto alla prossima puntata iscrivetevi al canale e poi vedremo quello che fa ciao a tutti